Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi siamo già in vigilia perché domani gioca una partita la Juventus importantissima contro la Sampdoria e dobbiamo vincerla, dobbiamo assolutamente vincerla per dare continuità di risultato e prepararci al meglio per la sfida col Villareal. Oggi infatti parlerà Massimiliano Allegri, nel pomeriggio ci troveremo per analizzare tutte le parole che andrà a sviluppare, andrà a comunicare in conferenza stampa ma mentre attendiamo questa conferenza stampa mi sembrava giusto e carino portarvi questo tipo di contenuto perché qualcuno l'avrà già visto, l'avrà già letto sui vari social, Paolo Di Bala mi ha iniziato a seguire su Instagram e lo so che il titolo di un video di questo tipo sembra il classico clickbait da chi vuol far vedere che invece no, cioè è accaduto effettivamente, questa cosa è successa davvero e la potete verificare tranquillamente da voi andando sul profilo Instagram di Paolo Di Bala, andando nei suoi seguiti e vedendo che effettivamente c'è anche il mio profilo Instagram, Tozenlook, questa cosa è accaduta, poi magari Di Bala in questo momento mi ha già rimosso e quindi sto dicendo cose a caso, però è successo, ho le prove, ve le metto qui in sovraimpressione. E dato che comunque ieri su Twitch abbiamo parlato di questa cosa, mi sembrava carino spiegare anche quello che è accaduto, come è accaduto, come me ne sono accorto, quelle che sono state le mie sensazioni, le mie emozioni e quindi vi riporto sostanzialmente la chiacchierata che abbiamo fatto ieri su Twitch, nel sub talk classico del giovedì, in cui vado a spiegare questa cosa nello specifico. Poi su Di Bala abbiamo fatto tanti ragionamenti nel sub talk di ieri, magari sul secondo canale vi ricarico tutta la diretta integrale e potete andarvela a riascoltare, però questo è accaduto, questo è un mondo strano, lo so, vi lascio al video. Ciao a Di Bala, sì, sì, Di Bala è in chat, 100% Di Bala è in chat, sapete bene che cos'è successo ieri sera, io tra l'altro è stato bellissimo perché io ieri sera mi sono guardato, ero con la Linda, lei si è guardata un film, io ero di fianco a lei col tablet che mi guardavo il bellissimo Real Madrid PSG, sei proprio giovane, grazie, mi fa molto piacere Vitto, grazie. Mi stavo guardando Real Madrid PSG, bello tutto lì, tranquillo, a un certo punto apro Twitter al termine della partita e mi trovo delle persone che mi avevano taggato in un post con scritto complimenti, con il profilo di Di Bala, che cos'è successo non lo so, apro Instagram e vedo dei commenti nell'ultima foto con gente che mi diceva da quando Di Bala ti segue su Instagram? E ho detto come? Allora sono andato nelle notifiche e non c'era niente, ho detto vabbè si vede che stanno scrivendo robe a caso. Vado sul profilo di Di Bala, vado nei seguiti di Di Bala e mi accorgo che Di Bala effettivamente aveva iniziato a seguire il mio profilo, allora vado ancora nelle notifiche, vado a fare filtro, inserisco verificati e mi appare la notifica che, perché c'erano un miliardo di notifiche, che effettivamente tre ore prima Paolo Di Bala aveva iniziato a seguirmi su Instagram, tre ore prima, e io non me ne ero accorto e me ne sono dovuti venire a dire, allora sono andato a vedere la chat con Di Bala e aveva visualizzato i messaggi che gli avevo mandato, senza rispondere aveva visualizzati, al che ho detto dai, significa che gli è arrivato il tag, ha aperto, è andato a sbirciare il profilo per curiosità per sbaglio, avrà lasciato il follow, ma probabilmente non lo voleva fare, e allora gli ho scritto ciao Paolo, poi un messaggio con delle cose che volevo dirgli, e stamattina mi sveglio e c'è il cuore di Di Bala al messaggio, ha messo like al messaggio che gli ho mandato, ho visualizzato e ha messo like al messaggio che gli ho mandato, e il follow è ancora lì, quindi immagino che volesse davvero lasciare il follow, ma questa cosa non il mio cervello fa, perché perché, cioè perché mai Di Bala dovrebbe decidere di seguirmi su Instagram di sua spontanea volontà, questa cosa, nel messaggio Matt non si può dire, non si può dire, non si può dire assolutamente, non si può dire, penso per rispetto, intanto alla situazione di questo momento di Di Bala, perché comunque ci sono state delle cose che gli ho scritto anche inerenti a tutto ciò, e per il momento penso che sia giusto non rivelare quello che gli ho detto, poi quando questa telenovela terminerà, perché a un certo punto dovrà terminare, ormai siamo arrivati ad un livello ragazzi abbastanza insopportabile per noi tifosi dell'Iventus, e non oso immaginare per lui cosa possa rappresentare questo momento di incertezza assoluta sul futuro e sul lavoro, e quindi quando tutto si sistemerà in un senso o nell'altro, perché penso che ormai siano aperte al 100% tutte e due le strade, quindi 50% ognuna, non sappiamo bene che cosa voglia fare lui, che cosa voglia fare la Juventus, ma magari al termine di tutto ciò potrò anche rivelarvi che cosa gli avevo effettivamente scritto. Eh Alex, guarda, l'ho pensato anch'io, sono sincero, l'ho pensato anch'io, è anche abbastanza probabile che possa essere così, però dall'altra parte viene da dire, il social media manager ha il potere di seguire anche le persone, perché comunque il profilo viene utilizzato dal giocatore, quindi non lo so, può essere, può anche essere così, magari mi sto facendo tutto un film, però capite la mia emozione, perché io stanotte, cioè io l'ho scoperto che stavo andando a letto, ero lì, che stavo per addormentarmi, no? E chi ha dormito? Cioè io ho fatto dalle 23 alle 2, così, col cellulare in mano, dalle 23 alle 2, di notte, così. Stamattina, appena è suonata la sveglia, ho guardato cos'era successo, ma sono cose strane, un po' come quando Chiesa mi aveva lasciato i like, ricorderete, no? Quando si era fatto male, quando aveva commentato il mio profilo, si era messo a guardare le storie, si era messo a guardare, Chiesa si era messo a guardare tutte le storie, anche Di Bala ieri sera si era messo a guardare le storie, anche ieri sera Di Bala, quindi sono cose che veramente mi spezzano, mi spezzano, assolutamente mi spezzano. Sì, io pensavo di essere ubriaco, pensavo di essere ubriaco, infine. Sì, è iniziato così, Matt, però ripeto, io l'ho notato soltanto ore dopo, mi è capitato di notarlo soltanto tante ore dopo, perché era tipo l'unica serata che non ho preso in mano il telefono per guardare Instagram, quindi è successo così. No, dormire ho dormito, però ho dormito veramente poco, ho dormito veramente poco. Esatto, esatto, anche secondo me è una roba del genere, però non penso che possa lasciare il follow senza l'opinione, quindi può essere che sia stato il social media manager a far notare a Paolo questa cosa, ma più che altro a me ti è caduto l'umido per te, mi dispiace un sacco Vincenzo, chiedo scusa se sono stato io a distrarti. La cosa strana è questa, Paolo ha visualizzato il post che ho messo ieri su Instagram che dice, ve lo leggo, testuali parole, così non andiamo a creare un po' di confusione. Rinnovo di bala, due punti, sia i pro sia i contro sono finalmente d'accordo su una cosa, non importa come andrà a finire, ma i tifosi della Juventus si sono stancati della questione e vorrebbero la fine della vicenda, a prescindere dall'esito. Nel post, perché questa era la foto di quello che avevo twittato, nel post avevo scritto sono stanco e sapete quanto bene voglio a Paolo, vorrei vederlo ancora a Juve in futuro e ho già spiegato le mie modalità preferite, però stiamo davvero sfociando il ridicolo ormai, non so di chi sia la colpa, non so cosa sia accaduto, vorrei soltanto una risposta definitiva dalle parti, nel bene o nel male. Quindi non è nemmeno un messaggio di super amore nei confronti di bala, certo io sono esposto da tempo e lo sapete, io l'ho già detto mille volte, se devo scegliere di rinnovare o non rinnovare per me di bala rinnova, ma non rinnova oggi, non rinnova domani, rinnovava ieri, perché intendiamoci che è un po' quello che mi aveva messo il dubbio, no? Perché incontrarsi oggi per il discorso del rinnovo col procuratore, che mancano tre giorni alla Samp e sei giorni, c'era Gulli dietro, e sei giorni al ritorno col Villareal, perché se ti incontri davvero adesso non puoi rompere, perché se rompi in questo momento la società ci fa la figura dei dilettanti, no? Perché devi metterti, devi crearti un caso dentro casa, quindi nel momento in cui fissi l'appuntamento a oggi, a tre giorni alla Samp e sei del Villareal, significa che vuoi andare avanti. E allora per lo stesso ragionamento, perché poi lo sposti? Perché lo sposti? Se l'hai fissato oggi, ma la rottura sarebbe stupida oggi, perché lo sposti? Cioè c'è solo un motivo, eh? Io non ne vedo altri, mi pare di vederne uno solo. E cioè che la Juventus non abbia la volontà di andare avanti con Dybala. Che è sacrosanto parlarne dopo il Villareal. È la strada giusta, questa è la cosa giusta da fare. Per allora perché mettere in un primo momento l'incontro oggi e poi dire no, 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 guarda lo spostiamo post Villareal? Questo secondo me è un po' puzza. Io non credo neanche che sia logico arrivare in questo momento della stagione con così tanti giocatori indecisi sul futuro perché va bene quando iniziano il campionato, va bene, però quando sei vicino alla scadenza dei contratti, quindi quando loro possano effettivamente firmare un contratto con altre società, quindi il 31 dicembre, ecco quando arrivi lì dal 31 dicembre in poi secondo me deve passare un mese al massimo sui giocatori che davvero ti vuoi tenere stretto perché semplicemente se oggi arriva una qualsiasi offerta a Paolo Dybala, lui la può accettare. Cioè, intendiamoci, chi glielo fa fare a Dybala in questo momento di aspettare la Juve? Ci sono due possibilità, due possibilità, perché se no Dybala in questo momento da quasi 70 giorni potrebbe firmare con chi gli pare a gratis. Allora perché Dybala non ha ancora firmato con nessuno, ci sono due possibilità, due sole. Non ha offerte, non ha offerte, perché può essere un'opportunità, può essere una possibilità, o non ha comunque offerte che gli piacciono e poi ci torniamo, o vuole rimanere alla Juve. Cioè le due opzioni sono queste, che Dybala voglia rimanere alla Juve o che Dybala non abbia offerte. Non ci sono tante altre possibilità, perché se no Dybala semplicemente firmava da un'altra parte. Allora se vuole rimanere alla Juve, secondo me gli fa onore questa cosa perché sta dando magari priorità a tutte le altre squadre che lo stanno cercando, che gli stanno facendo delle offerte, qua si interseca la via di mezzo tra queste due, e cioè magari ha delle offerte che non gli piacciono. Io mi metto anche nell'idea che magari Dybala voglia rimanere in Italia, perché potrebbe benissimo essere suo diritto dire sono cresciuto bene in Italia, ho fatto tanti anni in Italia tra Palermo e Juve, ho imparato una lingua, mi piace lo stile di vita italiano, penso che ogni giocatore abbia diritto a scegliere questa cosa. Ce ne sono due, Milan e Inter. E allora qua mi metto il dubbio, qua la mia pulce nell'orecchio che è anche il video che ho fatto ieri, è questa. Se Dybala arriva a questo punto, che magari non ha offerte, ma ne ha una concreta, che è l'Inter, come se è davvero vociferato, magari Dybala c'ha l'offerta dell'Inter, che è l'unica offerta che gli fa dire allettante, affascinante per progetto, per continuità tattica, per stipendio. Però dall'altra parte io voglio rimanere alla Juventus. E soprattutto, da giocatore che ha fatto tanti anni alla Juve, sa che cos'è l'Inter per la Juve, e quindi occhio, in questo momento non mi sbilancio verso l'Inter, perché comunque voglio dare la priorità alla Juve. E però dall'altra parte c'è una Juve che o l'offerta di prima non è più valida, o l'incontro fisato oggi lo spostiamo. E questi sono dati di fatto, eh. Questi sono dati di fatto nel momento in cui decidiamo di fidarci dei giornalisti che hanno dato questa notizia. Ma ieri tanti giornalisti hanno dato questa notizia. Romeo, Albanese, Balice, Della Valle. Allora o si sono sbagliati tutti, magari si sono sbagliati tutti, eh. Oppure è vero la Juventus ha effettivamente spostato l'appuntamento. Allora questo cosa vuol dire? Che siccome in questo momento Dybala ha un'offerta sulle mani che è quella dell'Inter, ma lui vorrebbe rimanere alla Juve, e quindi piuttosto che accettare l'offerta dell'Inter subito dice ragazzi, parliamone, io ho questa offerta, cerchiamo di incastrare le esigenze per andare avanti insieme e non costringermi ad andare all'Inter. Perché poi se Dybala va all'Inter, al tifoso, cosa rimane? Che Dybala è andato all'Inter. Non rimane quello che c'è dietro, non rimane eventualmente un comportamento della Juventus che prima conferma una cosa, poi la tira indietro, poi rimanda in continuazione gli appuntamenti per i rinnovi. Questa cosa non rimane al tifoso. Perché al tifoso rimane il fatto di tifare Juve, perché è giustissimo, ma rimane anche il fatto che il giocatore invece che la Juve è scelto di andare all'Inter. Senza sapere effettivamente se la Juve poi ha offerto un contratto davvero a Dybala o comunque si è avvicinata a... perché qualcuno dice ma Dybala potrebbe firmare? Sì, però se sono Dybala e oggi prendo 7-3 e la Juventus mi offre 2 milioni di euro all'anno, 3 milioni di euro all'anno, magari mi girano anche i coglioni. Soprattutto se prima mi avevano offerto uno stipendio ancora più alto. Quindi questa è una situazione molto delicata, molto complessa, dove probabilmente noi non avremo mai la lettura completa, non avremo mai tutti gli elementi sul tavolo per dare una giusta valutazione. E possiamo soltanto cercare di tirare le somme noi in base a quello che accade. Ripeto, tutti i pezzi sul tavolo secondo me si incastrano solo in questo modo. Solo in questo modo. Esatto, esatto Matt, certo sì sì, è un'altra cosa da prendere in considerazione, ma si incastra ancora anche questa all'interno del ragionamento, all'interno della discussione. E cioè che fino a qualche mese fa Dybala e Juventus andare avanti insieme entrambi? Sì, in questo momento probabilmente è rimasto solo Dybala a voler andare avanti, perché se no Juventus oggi incontra Dybala, il procuratore di Dybala, il procuratore di Dybala porta l'offerta dell'Inter, la Juventus ti ha ragione e gli dice va bene dai allora pareggiamo. Grazie. 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 Grazie.